L'obiettivo del progetto ADESA è quello di intervenire sul patrimonio immobiliare esistente con interventi non solo di riqualificazione architettonica ed energetica, ma anche strutturale. Il progetto ha ottenuto nel bando Smart Living di Regione Lombardia il massimo ponteggio e un importante contributo. Tutto questo è stato possibile sia grazie al supporto di Confindustria che delle cluster che hanno permesso di mettere insieme la conoscenza del mondo accademico con la voglia di fare business da parte delle imprese. ADESA è una soluzione fortemente industrializzata e innovativa che consente di operare dall'esterno dell'edificio, non richiede la rilocazione degli abitanti, semplifica enormemente le operazioni di cantiere e la durata del cantiere ed è operata con costi contenuti paragonabili a quelli di una sola riqualificazione energetica. Quale ulteriore aspetto interessante? Riteniamo anche l'unione per la produzione di una soluzione innovativa che rende l'azienda stessa, la realtà stessa così concepita, come molto competitiva a livello europeo e di fatto introduce la realtà produttiva italiana all'interno di quel contesto di aziende che in Europa già si muovono per la riqualificazione del costruito. Ecco che questo fa sì che questo gruppo e la proposta che stiamo facendo possa diventare interessante anche a livello europeo. Ci proponiamo non solo come competitors ma anche come potenziali partner per favorire ulteriori sinergie con aziende europee. Grazie a tutti.